Ci troviamo a Taranto, in via Pupino, nel pieno centro Umbertino, tra via Principe Amedeo e via Mazzini. Vedete alle mie spalle un immobile abbandonato da decenni. Giace così, vedete, dei pali, delle traverse in legno che praticamente fungono da recinzione. Il marciapiede, vedete, non è percorribile proprio alla luce della presenza di questa palizzata. Quindi da questo lato non si può transitare a piedi, i pedoni non possono transitare e sono costretti così a invadere, tra virgolette, l'area riservata alle auto o comunque passare all'alto marciapiede. Ma al di là di questo, mi domando cosa aspetti l'amministrazione comunale ad intervenire. Non è possibile che una situazione del genere debba stare così, debba durare per durare da decenni. I proprietari devono essere scossi pesantemente dall'ente comune affinché intervengano, affinché quantomeno l'aria venga, come dire, resa minimamente fruibile. Non si vuole ristrutturare il palazzo ma almeno far sì che lungo il marciapiede si possa appunto transitare. Vi sarebbe così anche la possibilità della ordinanza in danno, cioè il comune ristruttura l'immobile a proprie spese e poi si rivale sul proprietario. Però mi rendo conto che questa è un'ipotesi molto teorica perché ci sarebbero dei costi pesanti che ovviamente un ente comune, viste le ristrettezze economiche, avrebbe difficoltà ad anticipare salvo poi rivalersi. Ma questa situazione ci fa riflettere sullo stato di Taranto. Ripeto, non stiamo parlando di una periferia ma stiamo parlando del pieno centro. E questo la dice lunga sullo stato di decozione. Una Taranto anche nella sua parte elegante, teoricamente elegante, che sta crollando miseramente a pezzi. E anche ci fa pensare il fatto che non ci siano neanche imprenditori a Taranto in grado di acquistare, di rilevare l'immobile, di investire su di esso. Perché chiaramente acquistare un immobile, acquistare appunto un palazzo del genere potrebbe essere anche una forma di investimento nell'ottica di rivendere gli appartamenti, di fittarli. Ma si sa, la molle Tarentum anche a livello imprenditoriale, al di là delle difficoltà economiche che certamente ci sono, ma nessuno ha questi slanci, nessun imprenditore ha questi slanci che invece avvengono in altre parti d'Italia. Qui si rimane così confinati nel proprio orticello. E intanto Taranto crolla a pezzi. È un peccato perché è una città che ha una enorme vocazione turistica e viene deturpata da questi, io li definisco pugni allo stomaco, perché questo è un pugno allo stomaco. Nel pieno centro di Taranto, nel salotto buono della città, nel borgo Umbertino, uno vede uno scempio del genere. Guardate anche questo palazzo, vedete le persiane tutte rotte, l'erbaccia che cresce, anche in alto si intravedono delle crepe. Insomma, sembra di stare in qualche paese medio orientale che è stato magari oggetto di bombardamenti. No, siamo in Europa, siamo in Italia, siamo a Taranto, siamo nel centro Umbertino. Guardate, le immagini parlano da sole, guardate l'erbaccia. E questa è proprio così, denota una situazione che ormai si è stratificata nei decenni. Povera Taranto, povero centro. C'era una volta il salotto bello della città a Taranto. C'era una volta il salotto. C'era una volta il salotto.